Ciao a tutti sono Niccolò di Oram Online e sono qui per presentarvi tre nuovi prodotti o meglio una nuova linea di prodotti che si compone di diciamo tre diverse fasce di interfono bluetooth perché di questo stiamo parlando come potrete forse intravedere dal disegno che c'è sul packaging del prodotto e stiamo parlando della nuovissima gamma Midland Next quindi diciamo la gamma di interfoni di nuova generazione che ha presentato recentemente appunto Midland una ditta che come forse alcuni sanno è molto molto famosa nel campo delle ricette trasmittenti una ditta che parte a livello una presenza molto importante a livello statunitense ma che allo stesso tempo ha diciamo attualmente sta lavorando veramente moltissimo anche qui in Italia qua proprio qua vicino a noi soprattutto per quello che è il settore moto i tre prodotti che ho diciamo messo in fila possiamo dire in ordine di completezza di potenza anche un po' in fascia di prezzo sono il modello BTX1 FM il BTX2 FM e il BTNEXT Conference diciamo che diciamo subito che la principale differenza tra questi due modelli quindi quello blu e quello rosso quindi diciamo il BTX2 e il BTNEXT rispetto al BTX1 sono la possibilità di usare una funzione di interfono da moto a moto quindi non due persone sullo stesso motociclo ma due persone su motocicli differenti il BTX1 FM ha molto in comune con gli altri adesso andremo a dire quali sono le caratteristiche comuni ma appunto non permette la comunicazione da una moto all'altra in quanto il raggio di azione delle due centraline e il raggio di comunicazione delle due centraline è circa 10 metri quindi perfetto nel caso in cui siamo sulla stessa motocicletta ma ovviamente non idoneo alla comunicazione da due moto differenti per cui ci servirà uno di questi due modelli partiamo dalle caratteristiche comuni lo possiamo vedere anche dalle icone che sono state posizionate sulla scatola intanto tutti e tre gli interfono ovviamente si avvalgono tecnologia bluetooth sono interfoni che funzionano in modalità stereo quindi hanno due altoparlanti non sono auricolari in quanto rimangono fuori dall'orecchio quindi sono utilizzabili senza problemi per il codice della strada e tutti e tre i modelli supportano il cosiddetto dual phone quindi è possibile collegare due telefoni ad ogni centralina perché questi ad esempio sono tutti twin pack quindi pacchi da due centraline esiste anche la versione singola quindi per chi di voi dovesse avere due numeri magari il numero del lavoro e il numero privato può collegare contemporaneamente tutti e due i cellulari continuando tutti e tre hanno la funzione talk to all quindi una cosa molto interessante una peculiarità di midland che gli permette di parlare con tutti gli interfoni bluetooth anche di altre marche quindi uno standard molto aperto e questo è molto comodo se ad esempio abbiamo già un interfono che vogliamo mantenere ma vogliamo allo stesso tempo comprarne un altro magari per il nostro passeggero per la nostra compagna, la nostra moglie senza necessità di diciamo limitarci a dover comprare un interfono della stessa marca che abbiamo già sarà sufficiente prendere uno di questi modelli per avere un sistema comunque di tipo aperto un'altra cosa molto interessante che hanno tutti e tre è la radio FM radio FM di tipo digitale quindi una qualità veramente veramente molto interessante le differenze come dicevamo riguardano il tipo di comunicazione che è possibile fare tra le due centraline in generale la potenza del segnale che emettono questi tre modelli qui come abbiamo detto arriviamo fino a 10 metri con il BTX1 FM qui arriviamo fino a 800 metri con una comunicazione che può arrivare fino a 4 interfoni in conferenza e invece il BT Next Conference permette di collegare fino a 6 interfoni di cui 4 possono parlare in modalità conferenza quindi una cosa veramente veramente molto molto interessante considerato che appunto l'importante è sicuramente la funzione da 4 però averne 6 permette di sfruttando diciamo una sorta di ponte radio bluetooth collegare ulteriori due centraline quindi molto interessante per chi ad esempio gira appunto con un gruppo di motociclisti la qualità è la medesima parliamo sempre di interfoni con una qualità costruttiva veramente alta e anche una qualità audio davvero eccellente andiamo a fare l'unboxing partiamo diciamo dal modello di gamma visto che comunque il contenuto della confezione è il medesimo e anche la forma della centralina quello che differisce è appunto l'elettronica che viene inserita all'interno andiamo a aprire la scatola un packaging sempre molto curato e queste sono le due centraline queste come dicevamo sono quelle del BT Next Conference ma l'unica differenza che possiamo riscontrare a livello esteriore con i modelli con gli altri modelli riguarda il colore delle scritte e appunto il modello che è indicato qua quindi possiamo vedere BT Next Conference una cosa particolare queste centraline adesso lo faccio vedere in contrasto sulla scatola è che sono veramente molto molto sottili e quindi una volta montate non danno problemi di ingombro appunto sul lato del casco andiamo a vedere il contenuto della confezione che diciamo è poi quello classico che ci si aspetta da un interfono bluetooth di alta gamma di alta qualità ed è il medesimo che troviamo sugli altri come dicevamo e partendo da il cavettino bluetooth sdoppiato per poter collegare appunto collegare al computer ricaricare il nostro interfono un cavetto audio per collegare una fonte di musica esterna un altro cavetto ovviamente per l'altra centralina e poi abbiamo i due kit di microfoni come vedete è già presente il microfono ad archetto per chi ha un casco aperto, un casco modulare e lo vediamo qua sul retro si intravede il microfono a bottone che invece va appiccicato sulla mentoniera per i caschi chiusi e troviamo anche i due kit di fissaggio kit di fissaggio che possono si può fissare appunto la centralina al casco o in maniera adesiva vedete che c'è un adesivo 3M ad altissima resistenza vi assicuro che non molla anzi è veramente ad altissima tenuta pur non rovinando il casco perché è sufficiente rimuoverlo facendo leva facendo una discreta forza e successivamente pulendo con un panno umido al massimo un po' di sapone neutro non appiccica, non lascia residui oppure si può utilizzare il morsetto che va attaccato invece nella calotta del casco va stretto con l'apposita brugolina che viene data in dotazione poi troviamo altre due coperture antivento in caso qualcuno dovesse perdere dovesse staccarle e il caricabatterie USB che appunto unito al cavo che abbiamo visto prima il cavo USB sdoppiato ci permette di ricaricare a rete il nostro interfono una dotazione veramente veramente molto 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 completa considerato appunto che troviamo già tutto il necessario per un montaggio che tra l'altro è assolutamente facilissimo perché sarà sufficiente fissare la centralina sul lato del casco e il connettore è un connettore unico come vedete questo qua quindi l'unico connettore che va collegato sulla parte inferiore della centralina è questo che vedete una volta fatto quel collegamento lì il vostro interfono sarà pronto nel caso in cui dobbiate ad esempio lasciare il casco appeso fuori dalla moto è sufficiente far slittare dal supporto la centralina metterla in tasca giusto per evitare che qualcuno ce la possa sottrarre noi ovviamente non possiamo fare altro che invitarvi a visitare il sito shop.ramonline.it dove troverete la gamma Midland così come tanti altri prodotti per la comunicazione in moto per il divertimento in moto e ovviamente la nostra ampissima gamma di abbigliamento e accessori io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo unboxing ciao 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 ciao